Oggi vi faccio vedere cosa mangio in un giorno, incominciamo subito dalla mia parte preferita, la colazione con un buonissimo porridge Poi ho lavorato un pochettino e mi sono allenata e ho registrato anche alcuni workout per la mia piattaforma di allenamento Vacuum e qualche esercito di respirazione per poi passare al pranzo con questa mozzarella proteica che ho adorato Poi piccola bowl per merenda e seconda bowl della giornata, questa volta salata per cena, questa volta in versione vegana e mi è piaciuta tantissimo